5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 19 20 20 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.